Una bellissima giornata al castello di Montebello, attraverso le selezioni impariamo a conoscere i vini dell'oltrepobavese. Secondo me da Civalle Paolo è un grandissimo vignaiolo, è una delle massime espressioni del nostro territorio, questa bottiglia di Frader, grandissimi pure loro, è un Sauvignon che secondo me è un'esplosione di profumi, di sapori avanti così che va benissimo, grandissima bottiglia, è un blend che secondo me è molto interessante e merita veramente di essere assaggiato e degustato e non mi soffermo per dire che per me è stata veramente la scoperta da un paraberista quali sono e questa bottiglia devo dire che ha un potenziale di evoluzione è interessante, però io sono parte, lo ammetto, è un mio veramente, perdonatemi, perdonatemi tutti, vi voglio bene tutti quanti, poi non voglio metterla in prima fila, non la sto mettendo, ma la sto mettendo, però per me è così dire, ho solo elogi perché quello che ho bevuto oggi per me è un vino veramente emozionale ed è uno di quei vini che io vado sempre a cercare, quindi grazie Valeria per tutto quello che fai, per il territorio dell'Eltrepò, grazie a tutta la famiglia e se c'è ancora un po' di vino, grazie ancora e grazie soprattutto a Maurizio per questa esperienza perché è veramente un piacere avere la possibilità di parlare con voi di vino e di emozionarmi comunque davanti a queste eccellenze del territorio, grazie ancora. Bravo! Mi ha invitata la mia amica Devora che la ringrazio, è stata un'esperienza stupenda, ho conosciuto delle persone molto molto solari, biscotti super buoni, la degustazione dei vini è stupenda, salumi eccezionali, grazie, bene, grazie a tutti e alla prossima visita. La degustazione dei vini è estremamente curiosa, particolare, veramente buona, complimenti a Maurizio. Grazie, grazie di tutto. Ringrazio Maurizio che ho conosciuto quasi per caso e mi ha invitato a questa esperienza bellissima che arricchisce e mi ha dato possibilità di far conoscere il mio vino. bellissimo, bellissimo l'idea, bellissimo il format, bellissimo il posto.